La serie 9 è in grado di generare una potenza alla presa di forza di 301 cavalli a 1900 giri motore. Questo consente l'applicazione in lavorazioni molto gravose, come ad esempio quelle nell'ambito stradale con una fresa stabilizzatrice. La trasmissione a variazione continua garantisce velocità di avanzamento illimitate, da 20 metri l'ora a 60 km orari in fase di trasporto. La serie 9 è in grado di operare anche negli ambienti più ostili e polverosi. Il pescaggio dell'aria è posto nella parte superiore del montante cabina, con la possibilità di montare un filtro ciclonico aggiuntivo. Inoltre il meccanismo di apertura del cofano elettrico e l'apertura dei radiatori a libro rendono la manutenzione ordinaria semplice. La possibilità di memorizzare velocità di avanzamento e giri motore consente all'operatore di concentrarsi meno sui parametri di avanzamento e di più sul risultato della lavorazione. Per questo tipo di lavorazioni, spesso e in passato, si sono utilizzate macchine semoventi, caratterizzate da maggiori ingombri che ne rendono difficili manovre e lavorazioni di fino. Grazie a un ridotto angolo di sterzo pari a 50 gradi e al sistema Existir che consente di dimezzare i giri del volante, la serie 9 offre un'ottima soluzione per quanto riguarda le lavorazioni di fino in ambito di lavorazioni stradali.